Buongiorno, allora questo studio ha voluto mettere in evidenza il valore della nutrizione e quindi è partito La cura infermieristica ha un ruolo essenziale in questo caso clinico, soprattutto nella parte del certamento Durante la raccolta dati, l'anamnesi, è stato possibile reperire la causa di questo premo dorace In quanto ragazza è una sportiva, anche di livello Grazie a tutti e complimenti, benvenuti, che questo sia proprio il primo giorno di una carriera a foriera di tutte cose buone Buone per voi, curiozi familiari A voi, buongiorno, buongiorno Uite, mamma, buongiorno! Matteo, mamma, s-a facut buongiorno A obosit, perché stai sculati da 6 Allora, mamma, buongiorno Si felicitate, mamma, e comunque Ma buongiorno Ma buongiorno E come però è inizio a sticcio Ma buongiorno No, credo ci ma interesse quando eri 20 anni Ma buongiorno E probabilmente più tardi Ma buongiorno Non è venuto sempre, non? Sì. Ho venuto con Rossella, perché Matteo non è venuto a venire, a fare un pozo a qui, a la mare. Sì... Sì... Sì...